cari amici di youtube benvenuti in questo nuovo video in questo video ascolteremo una canzone di riccardo fogli di questo 45 giri scene da un amore però la canzone che andremo ad ascoltare in questo video è la canzone del lato b che si chiama angelina se vi piace questo video mettete mi piace per seguire il mio canale andate su roberto zuccaro adesso con questo giradischi ascolteremo questa canzone grazie a tutti 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 la canzone Se vuoi i giorni imparati, un pubblico strano dai volti sudati, i sogni sudati, gli applausi distatti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Ancora un po' ti ascolterò. Grazie a tutti. Grazie a tutti.